Voi avete un cartello qui in vetrina, zona rossa per il turismo da febbraio 2020, è così di fatto? Sì, è così, dal 23 febbraio, quindi il giorno dei primi casi in Italia, in cui siamo stati costretti a far rientrare i nostri clienti dall'estero, perché il mondo stava improvvisamente cambiando e succedeva quello che poi tutti sappiamo. Da quel momento, oltre a non avere più nulla da vendere, perché comunque era tutto bloccato, dovevamo anche rimborsare tramite voucher le persone, quindi è stato tutto un discorso di rimborsi e di guadagni mancati, dal 23 febbraio purtroppo. Voi quanti posti di lavoro sono? Quattro posti di lavoro, qui in tutte le agenzie della provincia di Arezzo siamo all'incirca 57 agenzie, tra outgoing e incoming, e i posti di lavoro sono tanti, si soffre, si soffre tanto, siamo arrivati fino a qui, devo dirlo, con le nostre forze, perché in realtà di aiuti abbiamo avuto poco barra niente. I aiuti di Stato che stiamo aspettando si riferiscono alle perdite subite da febbraio ad agosto, quindi addirittura siamo a dicembre e ancora non abbiamo visto nulla per quanto riguarda quelle perdite lì. Si spera che poi il governo consideri anche che anche da agosto in poi non abbiamo lavorato, perché abbiamo lavorato un pochino a luglio ad agosto sull'Italia, ma ovviamente sono percentuali minime. Per il turismo ci sono stime di perdita, per il secondo trimestre all'incirca del 93% e per il terzo trimestre dell'80%, quindi insomma i guadagni sono veramente minimi, non ci consentono di andare avanti, però siamo fiduciosi, dovrebbero arrivare a giorni, crediamoci. Come si affronta questo periodo? Allora nel momento attuale si affronta male, nel senso che purtroppo come sappiamo il turismo praticamente è consentito verso pochissime destinazioni e con delle normative molto stringenti, sia per quanto riguarda giustamente i tamponi, sia per quanto riguarda le quarantene in arrivo o in entrata. Però diciamo che speriamo, come tutti i settori, che questo momento finisca, perché le zone da rossa stanno diventando arancioni, da arancioni si spera gialle, e poi speriamo tutti in questo vaccino che ci consenta anche a noi la ripartenza. Alcuni per lavoro sì, si stanno continuando a muovere, perché quella comunque è una necessità, quindi è consentito dalla legge e ovviamente assistiamo i nostri clienti in questo. E in più cominciamo a sentire proprio la voglia anche del turismo, perché le persone ci chiamano, i clienti ci chiedono cosa sarà possibile fare e quando, hanno voglia di sognare, comunque hanno anche bisogno, credo che sia un sentimento abbastanza diffuso e il viaggio è sempre un sogno. In questo momento però chi rientra dall'estero cosa deve fare? In questo momento chi rientra dall'estero dipende dal paese da cui rientra, perché ci sono paesi diversi, messi in liste diverse, e per ognuno di questi ci sono delle casistiche diverse, quindi dalla quarantena all'isolamento al semplice tampone, dipende da dove si rientra. Come si guarda al 2021 e quale sarà il futuro anche delle vostre aziende? Allora, per il 2021 diciamo che cominciamo ad avere un po' di positività, nel senso che forse si intravede la fine di tutto, magari siamo speranzosi, sia appunto per il vaccino che anche per un contributo statale che dovrebbe arrivare, per consentire alle nostre aziende appunto di finire questo periodo di grande difficoltà e poter ripartire in primavera estate. Diciamo che tutti ci stiamo organizzando per dare sfogo a questi sogni dei clienti, quindi stiamo per il momento proponendo dei voucher, delle gift card, quindi spendibili poi senza una determinata scadenza, o comunque con scadenze molto lunghe, in modo tale da non mettere pressione alle persone. Se uno a Natale vuole regalare un sogno, vuole regalare un viaggio, lo può fare tranquillamente sapendo che poi non avrà una scadenza immediata, ma che lo potrà usare anche nei prossimi anni. Quindi questo sia noi che i vari colleghi lo stiamo tutti un po' facendo, è un buono strumento. E in più, oltre a quello, noi personalmente per esempio cerchiamo di pubblicizzare anche le nostre esperienze sul territorio, quindi una passeggiata nelle foreste casentinesi, un corso per imparare a fare il gelato, piuttosto che una cooking class per la pasta fresca, tante cose, tanti piccoli pensieri che si possono regalare per Natale e che possono essere anche molto graditi secondo me. Grazie. Grazie.